Allicata alle prime ore del mattino di oggi, Angelo Tardino, 48 anni, si è recato a casa del fratello Diego Tardino, 44 anni, in un'abitazione in via Riesi, in incontrata Safarello, e forse al culmine di una lite, ha impugnato una pistola Beretta calibro 9x21 e lo ha ucciso. Poi ha sparato mortalmente contro la cognata e moglie del fratello, Alexandra Angela Ballachino, 39 anni, e due nipoti, figli della coppia, Alessia, di 15 anni, e Vincenzo, di 11 anni. Dopo un disperato tentativo di fugo, ormai braccato dai carabinieri, si è sparato due colpi di pistola alla Tempia con una pistola Tamburo marca Bernardelli, in via Mauro de Mauro, dove è stato trovato agonizzante ed è stato trasferito d'urgenza, intubato con l'elisoccorso all'ospedale Santelia Caltanissetta. È stata dichiarata la morte cerebrale, coma irreversibile. Tardino è stato raggiunto al telefono dei carabinieri, che lo hanno invitato a desistere dalla fuga e a presentarsi in caserma. Lui ha manifestato persuasione, poi invece i carabinieri, al termine della telefonata, hanno udito i colpi di pistola. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, capitanati dal colonnello Vittorio Stingo e coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto di turno Paola Vetro, e che si bassano soprattutto sul racconto di alcuni vicini di casa, la lite in famiglia, e non sarebbe stata la prima, è stata scatenata da interessi economici legati alla divisione ereditaria tra i due fratelli di alcuni terreni agricoli e all'utilizzo di un pozzo. Angelo Tardino è titolare del porto d'armi, possedendo un fucile da caccia e le due pistole con cui ha sparato. A lanciare l'allarme è stata la moglie di Angelo Tardino. I carabinieri hanno scoperto uno dei due bambini, Vincenzo, avvolto in una coperta sotto il letto. Forse ha tentato di nascondersi. Stamattina tutta la comunità si è alzata con questa tragedia così forte che turba il cuore di ognuno. La nostra comunità è in prima linea. Questo è il territorio che mi è stato affidato da Monsignor Vescovo da qualche mese, è una nuova esperienza, due parrocchie di periferia con problematiche differenti che è il centro. Certamente tante volte, non so se sia questo il caso, le solitudini alimentano delle tragedie, non ci sono giustificazioni a quanto avviene. Tuttavia, tanti sono i pensieri che affollano la nostra mente, tanti perché, tanti interrogativi. Una strage familiare del genere ha un precedente storico a poca distanza da Licata, a Palma di Montechiaro, dove la sera del 21 giugno del 2000, in una villetta in campagna incontrata da Cellona, nei pressi del cimitero comunale, Vincenzo Sambito, 53 anni, bracciante agricolo e idraulico, si suicidò sparandosi un colpo alla Tempia con una pistola calibro 7,65. Dopo aver ucciso sua madre, Maria Salerno, 80 anni, le figlie Rosarria, 22 anni e Marianna, 25 anni, e la moglie, Paola Amato, 46 anni. Sambito era stato operato di tumore una mese prima. La neoplasia era benigna. Tuttavia, l'uomo che sarebbe stato assillato dal non avere figli maschi e, forse, temendo per la sua vita e per l'impossibilità della sua famiglia a sopravvivere alla sua morte, attuò il folle piano. Si salvarono solo un'altra figlia femmina, Valentina, di 14 anni, rimasta in casa in paese, e il fratello Gaetano, 43 anni, affetto dalla sindrome di Down. Lui fu colpito da due proiettili, non mortali. No, perché no, nella porta.